Migliorano ancora le condizioni del bambino di 17 mesi accidentalmente investito nel marcianese da un'auto condotta dal nonno. Il piccolo è stato trasferito dalla rianimazione ad uno dei reparti dei degenti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Intensi sono stati in questi giorni i contatti tra i medici della struttura toscana e quelli del Santa Maria della Misericordia di Perugia, riferisce l'ufficio stampa Mario Mariano. Dall'ospedale del capoluogo Umbro il bambino era stato trasferito al Meyer in elicottero.